Evitare che possa ripetersi il rischio di una chiusura come quella a cui il covid ci ha obbligato lo scorso inverno, l'unica via possibile in questo momento è immaginare interventi diversificati fra chi è vaccinato e chi ancora no. Con queste parole il presidente della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugate è intervenuto alla conferenza Stato-Regioni che sta raccogliendo i pareri dei diversi presidenti in vista dell'adozione da parte di nuove misure legate all'emergenza pandemica. Condivido la posizione espressa dal presidente Massimiliano Fedriga, aggiunto oltretutto essendo presidente di una provincia che deve al settore turistico invernale una forte incidenza sul proprio prodotto interno lordo, vogliamo assolutamente evitare un blocco come quello già visto. Pensare di chiudere ora significa in pratica restare chiusi fino a maggio. E se in Trentino stanno man mano aprendo gli impianti turistici e i mercatini di Natale, la situazione si fa sempre più drammatica nel vicino Alto Adige dove per frenare la nuova ondata di covid chiudono le discoteche e le sale da ballo, tornano le mascherine all'aperto sui mezzi pubblici, va indossata la FFP2, mentre nei comuni rossi i bar e i ristoranti devono chiudere alle 18 e scatta il coprifuoco dalle 20 alle 5. Sta tutto in un'ordinanza che il governatore Arno Compacer firmerà nelle prossime ore. Non ci sono alternative perché qui l'incidenza attualmente è di 407 e preoccupa in particolar modo la situazione di alcuni comuni come Rodegno dove l'8,16% della popolazione risulta positiva. Il coprifuoco e la chiusura anticipata alle 18 di bar e ristoranti riguardano una ventina di comuni tra cui oltre a Rodegno, Senales, Castelrotto, Ortisei, Santa Cristina, Val Gardena, Anterselva e Rio di Pusteria. In questi comuni scatta anche l'obbligo di FFP2 nei negozi, sono sospesi tutti gli eventi pubblici in luoghi chiusi, chiudono teatri e cinema e sono sospese le prove, una bella batossa in apertura di stagione invernale.